Mentre calano drasticamente i contagi da Covid-19 nel Salernitano, nella fase 2 l'attenzione resta alta e si procede con le sanificazioni in città, Salerno in vista della riapertura dei mercati rionali e del ritorno dei clienti al centro agroalimentare, disposta alla disinfezione della struttura comunale di via Mesciogracco, interventi anche nella provincia e negli altri edifici di proprietà dell'ente, misure di contenimento della diffusione del Covid-19 anche con i tamponi che verranno effettuati in questi giorni alla Polizia. La Polizia Locale alla Protezione Civile di Salerno, soddisfatta la funzione pubblica della CGL che nelle scorse settimane lo aveva sollecitato. I mercoledì 20 al comando della Polizia Municipale con il supporto ovviamente dell'Asela di Salerno inizieranno i tamponi nasofaringei per tutto il personale. Chiederemo l'applicazione poi dello screening di massa anche per gli altri dipendenti comunali per poi estenderli anche ad altre società come ad esempio coloro che si occupano dell'igiene ambientale per i lavoratori di Salerno Pulita. Pensiamo che sia importante ampliare al massimo lo screening per garantire ovviamente alla cittadinanza un servizio ma soprattutto un servizio dove ci sono i lavoratori che sono in uno stato di salute eccellente e quindi possiamo tranquillizzare tutti. Massima cautela anche per prevenire il fenomeno dell'usura e dell'ingresso di capitali illeciti nell'economia duramente provata dal coronavirus. Vertice in prefettura Salerno al quale hanno preso parte anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Petruccelli, i sindaci di Pollica e Bellizzi per Anci Campania e diverse associazioni. Attenzione puntata sulle difficoltà nell'accesso al credito per gli imprenditori. Grazie. Grazie.